Direttore, alla luce di questo incontro con le rappresentanze istituzionali dei Monti Dauni sicuramente si è fatto un'idea un po' più generale della situazione che è perversa in questi piccoli comuni. La gente vuole sapere qual è la situazione, sicuramente oggi possiamo dirlo meglio, più in generale. Beh, intanto i confronti servono sempre. Devo dire che qui trovo un clima favorevole di persone che vivono quotidianamente, i sindici vivono queste loro piccole realtà sulla loro pelle ed è giusto che abbiano comunque con noi un confronto anche per sollecitarci a fare le cose che hanno più senso rispetto a delle altre. E va bene, insomma le iniziative che stiamo facendo non è la prima volta che io le incontro singolarmente anche. Oggi le abbiamo incontrate in questo luogo istituzionale, le decisioni come avete visto, un semilavorato ce l'abbiamo già, quello che vogliamo fare, gli investimenti li abbiamo anche intercettati, vorremmo fare molto di più, ma questo mi sembra già un buon passo, un primo passo. Per aumentare la presenza di personale specializzato, soprattutto per le fasce più anziane, perché il sindaco Ivanilio diceva proprio questo, magari non è che personale non ne abbiamo, lo abbiamo ma magari non è adatto alle fasce più anziane. Ad esempio in un comune come Motta, come Roseto Valfortore, il sindaco Parisi prima lamentava la scarsa presenza di personale, come potrebbe migliorare questa situazione di personale abbinato alle esigenze delle varie fasce d'età? Voi siete stati anche all'incontro, avete visto come noi abbiamo fatto uno studio approfondito anche delle percentuali di anziani, per esempio ci sono comuni qui dove la percentuale di anziani, cioè di oltre 45 anni, è del 40%, certo comuni piccoli, ma forse proprio perché sono piccoli abbiamo anche più difficoltà. La chiave di volta di tutto questo per noi è il concetto di prossimità, cioè portare la salute dove serve, perché noi dobbiamo tenere questi anziani, queste persone fragili e comunque in generale tutti i cronici, dobbiamo vedere di monitorarli, monitorarli in questo caso a distanza per esempio, con le tecnologie che abbiamo anche chiesto, ci sono stati concessi finanziamenti e della telemedicina. L'altra chiave di volta è l'Adi, telemedicina ha anche a favore degli infermieri che andranno a casa e che potranno fare un certo tipo di assistenza. Ecco, questo credo sia la soluzione, perché altrimenti pensare di concentrare in un piccolo centro, in un centro anche grande, ma con distanze come queste che noi abbiamo sui Monti Dauni, risulta particolarmente difficile, oneroso e soprattutto non efficace.